Da soli si va veloce, insieme si va lontano e la forza di questo gruppo dirigente porterà lontano questa nostra grande comunità umana e politica che oggi ho l'onore e il piacere di avere al mio fianco. Sono sereno perché in questi cinque anni abbiamo lavorato bene e nel secondo storico mandato vogliamo dare continuità alla nostra azione politico-amministrativa. Così il vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, candidato della Lega. Pieno d'affetto, di emozioni, di una comunità che si ritrova su un lavoro di cinque anni di grande impegno e la gente qui che è venuta alla inaugurazione del comitato elettorale è una testimonianza di un grande lavoro, di un grande impegno e soprattutto di impegno che prendiamo per i prossimi cinque anni. Noi siamo certezza, siamo credibilità e siamo l'opportunità per questa comunità e questo territorio.